Ladies and gentlemen, all young people, this is Shodem, a belli di casa, a belli mia, iscrivetei al canale, abbonate al canale Profit, se non vi piace, me lo dico, me lo dico, me lo dico, le dite al canale, è un momento dove la democrazia è come la fortuna che mi insegue col Kawasaki, vi lascio fare come vi va, a belli mia, a belli di casa, ultima di campionato, ieri c'erano un po' di impicci, ve lo faccio oggi, il pre-partita, il pre-partita Lazio-Ellas, Lazio-Ellas, partita fondamentale, fondamentale, non viene di nuovo, ma fondamentale, fondamentale non perdere oggi, né A, né B, né C, né D, come vi pare, oggi dobbiamo, e però io, 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 non stai bene, io, io, non stai bene, ma ti ho uno, ma non puoi, non puoi giocare, non mi dico tutto che mi toglie per voi, tranquillo, che mi regreso, eh! il prossimo anno per regresso non sa che si vede già iniziamo coi problemi già iniziamo coi problemi certo non sarà una partita tranquilla e una partita facile senza due delle nostre tre punte di diamante questo è un diamante che fa un po' come gli pare però quando fa il diamante è tanta roba quindi partita dura ragazzi perché sicuramente il Verona non verrà qua non ha regalato nulla e io togli male e tengo la mano la mano, la mano, la mano la mano, la mano, la mano, la mano la mano, la mano, la mano Ciro aspetta un altro bimbo pure Zaccagni quanto avete parlato eh quanto è bello quando l'onestà intellettuale che quando altri hanno hanno fatto i bori andava tutto bene una volta che lo fanno noi per me vabbè poi comunque parlate e poi fate i book fotografici da millegappa come dice il buon farco ai vostri ragazzini poi dopo per sei mesi gli date pane e latte perché ci avete da quanto vi piace riempirvi la bocca fatto sta che oggi ci saranno tanti razziali fatto sta che tra poco ci vedremo tutti a Pontevilvio fatto sta che è bello è bello essere razziali non vedo l'ora da abbracciarvi a tutti e e cantare l'amore per la mia Lazio poi non so quando la rivedrò perché è pure ora di tornare a lavorare perché se no di din di din di din di din sono finiti pure da un po' però non per vabbè comunque le voglio bene a tutti ci sentiremo sicuramente questa sera dopo partita per chi sarà all'Olimpico ci vediamo al Ponte e ricordatevi una cosa fondamentale ragazzi a prescindere di tutto noi vogliamo e gli altri strisciano in quanto non potranno ammai volare